ma se lo devo accendere scusami ma non serve questo l'hai bloccato così ma che ho bloccato bloccaste ma non mi chiedo occhio di chi è scemo ma ciò che niente non si può fare non potremo cucinare lo hai bloccato hai la capacità di spostare stai serenato ragazzi stai sereno stai serenato ha visto bravo adesso accendi con la calma la calma e la virtù dei forti ha visto signori vi presentiamo il nostro crazy chef di questa sera a voi carlo che ne va buonasera buonasera a tutti ciao a tutti Aspetta un minuto perché sono disgraziato, ho bloccato tutto qua. Ma io non l'ho toccato niente. Ma guarda che sta andando, ma che sta andando, è un piano induzione, non lo senti? Usiamo un gas, usiamo un gas, non lo facciamo niente. Mettilo lì, mettilo lì. E che va a fare? Allora intanto diciamo qual è la ricetta di questa sera? Forse, 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 forse. Sta andando, sta andando. Qual è la ricetta di questa sera? Allora stasera facciamo, che facciamo stasera? E che sento? Farti morire nello stesso momento. Bastardo! Bastardo! Bastardo ce l'ha a dire io che lo facciamo? Disgraziato. Sì, sì. Allora, capolfiore, se ce la facciamo, facciamo delle frittele di capolfiore. Cava a fare? Un attimo, Carlo. Aspetta, stiamo toccando. Ma che tocca? Che c'è tocca? Si sta riscaldando. Ma vedi che a capolfiore va? Sì. Musica! Va, 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 va. Forse cuciniamo, forse. Forse cuciniamo. L'isola suonava Blu Gardinia, l'orchestrina c'è, l'acqua rivolliva lentamente adesso. L'esplosione poi è dolce, dolce. Una bronza di brano, atomica. Vai, vai, vai. La musica dolce, dolce. Tutto andava giù. Mentre la tv dicevo, bevila perché è tropicana. Mentre la tv dicevo, bevila perché è tropicana. Senti, tornavo all'auce della... Non è questione... No, cazzo, con tanti generazzi, pugnattarati. Io ho cominciato a macchiare, non va bene. Tra l'altro, tra l'altro. Tieni a gira, oggi tu, andata, con uno maestro, non a fare. Mi sta facendo sorare, se ti ha messo. Disgraziati. Ma io non ho toccato niente, ragazzi. La tecnologia. Siamo sicuri che questa... È induzione, è induzione. E che c'è? Secondo me no. Ma non è induzione questa padella. Ci c'è scritto! Non c'è i pallini di sotto. Non c'è i pallini di sotto. Due ore mi accusano a me che ho spento il fornellino. E adesso vendiamoci una ricetta così al volo. Non ce l'avremo una volta a pareggio. Una ricetta al volo? Sì, ce l'abbiamo un'altra. Ma la prende, la prende. Te l'hai ripresa con me. Sì, carossi, una colla da rimotti, carossi. Allora, ma che sta facendo? Chi sa lavi i pallini? Ma che loro li puoi mangiare? Chi sa com'è? Ma l'unica ti si mette da fare la... Ma perché c'è il pallino? Sì, si lascia... Proviamola, proviamola, proviamola. Aspetta. Metti la mano. Ma non so mano! E che devo fare? Funziona? Ma perché quello è il segnale? Era questa? Non ti dà, non brevi. Non brevi. Va bene. La ricetta di questa sera al volo, se manca la ricassa a casa, che succede? Senti, che ne manchiamo la passione. Ma che sta facendo? Ma che fai? Scherzi? Vabbè, vabbè, benvenuta. Allora, una ricetta veloce. Vai, vai. Carlo. Ce l'hai una canzone che ce la voglio dedicare a lui di Loretta Goggi? Cioè quale? Che fretta c'era, maledetto, tu e magari a Roma Vecchio. Ma che stai dicendo? C'è un centro di gravità permanente. Che grande cosa che è questa, ma la pappetta. Guarda. Allora. Avrei bisogno di un centro di gravità permanente e non gli faccia mai cambiare idea sulle cose. Ma non puoi mangiare tutto, però. Dobbiamo preparare i panini. Ma che vuole? Schifo. Ehi, ma che mamma non lo si sta trasformando. Che le cicale, 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 cicale. Meglio pomodoro, Meglio pomodoro e comaggio. Oh, aspetta. Bravo. Stiamo tagliando il pomodoro. Allora, questa è una sarsina che ha fatto Carlo. Che ha fatto Carlo che è buonissimo. Vado? È buonissimo, è buonissimo. Vai. Ma tu stai mangiando tutto. No, no, piglio fumaggio. Non voglio fare l'altalena. Pomodoro. Allora, stiamo preparando dei panini così al volo. Se magari a casa voi dovesse finire il gas. Ma dai, se finisce è brutto, è brutto. No, se dovesse finire il gas, uno si arrangia con quello che è a casa, no Carlo? Se mi finisce un gas a casa, è la cupa di Cristiano. Perché c'entro io. Avete portato una piastra, che è una delle pentole, che non sono a induzione. Ma perché non ce la conoscevamo prima, scusami. Mamma mia. Non possiamo tagliare? Perfetto. Che devo fare con la la sua? A me? A me? A me? A me? Un momento di altissima televisione. Levo Stiparelli, levo. Le levo? E che devo fare? Portogli là, portogli là. BABY! Comaggio buono. Buono? Possiamo dividere il pubblico? No. Ma chi sta mettendo il parmigiano? Ma chi sta mettendolo? Ma non è che tu sei a casa tua che puoi pensare di mettere... Ma mi avevi detto che eri a dieta, ti sta mangiando magari un tavolo. Un tavolo di formaggio. Ma chi è che ti sta facendo un miscuglio di cose? Il pepe. Ma chi fa? Scusate, faccio assaggiare al pubblico io. Vai, vai, vai. Prego. Prego. Prenditi il parino. E di... Mia madre non lo deve sapere, non lo deve sapere, non lo deve sapere, non lo deve sapere. E di... Voglio andare ad Alghero, di compagnia dello straniero. Su spiaggia assolate. Mi parte il silenzio di un magico fate. Voglio andare ad Alghero. E di uno straniero. Quella che cos'è? E' bellissimo. Che cos'è quella? Si sta mangiando una donna mia mamma veramente, ma è... Basta! Fermati Chico. Fermati Chico. Fermati che qua abbiamo combinato. Che cosa? No! Ma che stai facendo? Che cosa? Noi hanno gente, che facciamo? Puppette. Di che cosa? Di che amo fiori. Ecco ci sono i pupetti che amo fiori. Pensavo che stessi... Eh, ma menudo. Sì. Così. Ecco. E il piatto... Aspetta. Dagli il tocco di classe. La coreografia gourmet. Vai. Sì. E il piatto è pronto. Ecco qua. Basta! Basta! Per, 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 per. Basta, basta. Basta, basta.